problemi di da un di trovare il tasto f9 per iniziare la registrazione però ci siamo quindi ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video della diversi 2 mi sono beppo e oggi sono come tutte le fottute volte siamo in compagnia di questi due ragioni ciao a tutti ragazzi io sono ale e benvenuti in questo nuovo episodio oggi parleremo di cotto e mangiato e oggi siamo qui per continuare la nostra super mappa quindi evitiamo di killarci e andiamo a giocare tanto non moriamo si faccia iniziare il puzzle 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 via no no labirinto ah ok labirinto vai io vado di qua io vado di qua allora allora lo ha dato ma stare zitto mi butto dentro aspetta veramente ci sono i ragni apposta le torce si spammano i mob bravo ho trovato una cesta io non sono morto perché sto laggando io sto laggando molto laggando anche a me non mi dispiace intanto io raga sto aspettando vedo il nuovo aspetto eccomi qua raga io devo andare noi continuiamo senza lori siamo in due e si toglie dalla chiamata io veramente e qui naturalmente quando c'è della chiamata quando non c'è nessuno io trovo le vie d'uscita non so perché ma sto facendo una cosa strabaggata cioè la mia vita sono in questo caso le cosciotte della fame e la mia fame è indicata nei cuori della vita ti rendi conto quando mi colpisce uno zombie io perdo perdo cosciotti ma vecchio ma che problema io ho trovato ti pizzati da me che ho trovato la via giusta io ma che bastardo qui senza senza neanche senza op io ho bisogno di cibo ma non cibo non ne ho quindi andiamo a caso trovate il portale azzurro oddio teschi di scheletro dobbiamo impiazzare le teste ci blocchi all'inizio quindi ora veniva suicida mi uccido non ho risolto il coso del degli item e tieni si mi ammazzano questi eh usate no ti fa tornare penso ah si si è al centro del... si è al centro eh prendilo ah dai eh grazie io sono in quello lancio tu un quale hai preso quello verde? si è sono in quello lancio a cercare perdiamo tutto ho delle uova di lupo ed è 64 come è stato pagato? ah si ma sta perché è buggato ho addomesticato due lupi io andiamo lupetti eh eh c'era un cesto con dentro due uova di lupo e 64 ossa mi sembrava doveroso farlo mamma puoi chiudere la porta che si sente fino a qui grazie e tutte le novelle non interessano a nessuno c'è un portale arancio ho trovato anche l'arancio ho trovato, ho trovato, ho trovato, ho trovato sono i miei cani seduti non c'è un portale, siete stupidi eh eh 8 manda pozione di visione scheletro di leader, scheletro di leader ho preso io pozione di visione ozzurna venivano signor che dura 6 minuti mi dicono signor che cosa sei tu adesso? azzurra ecco eh hai messo sulla tua testa tu dobbiamo trovare l'ultimo sopra quello azzurro deve andare sopra l'azurro si spiegami tu dei problemi no sei un cavalcatore di scale ah no scherzavo ma ero illuminati con firme ed era bagatissimo c'era uno scheletro che cavalcava un ragno ma poi non lo stava cavalcando realmente ah io ho tolto la strada per il vero, per la strada verde ho trovato la via io per tornare a quello sopra eh sì ma è per tornare su dopo me le doro incantate aspetta belle 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 oh mi stanno mi stanno chicchiando questi oh ma sei cercando sai che cazzo vuol dire è lo scheletro però mi sta spammando ma che sei? non ti vedo eh anch'io non vedo la name tag portale trovato siamo a posto ora dobbiamo trovare la strada per tornare su eh aspetta un attimo creeper testa di creeper devo prendere presa io ho tre teste adesso io so la strada per tornare su al verde ho fatto la scala niente no scherzo mi porto giù questa hai messo attivato qualcosa l'hai attivato che cosa hai fatto? e che cosa è? guarda questo gua sta spammando tipo torce allora piazzo zombie no aspetta Dov'è la tua testa Ale? Testa di zombie hai preso tu? Era qua, era qua Ma smetti la Invece non l'hai presa No Ma sei stupido, non l'hai presa allora Oh Ah c'era, ecco c'era l'Ala Aveva vinto Ma come? Era un tardo lui Chi ce l'ha? C'era Ale Mettiti il blocco magari Iniziamo survival Ah l'ha messo dentro Quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e un commento Iscrivetevi al canale E alla nostra pagina facebook Un saluto da Lori Ciao a tutti Da Beppo e da Ale Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Grazie.